Dietro la chiusura della cappella della Madonna della Sala a San Mauro Cilento ci sono valide motivazioni, non è stato un capriccio. Si difende il dottore Giovanni Dello Schiavo, la cui famiglia dà anni e proprietaria della cappellina. La cappella, dice, di cui la mia famiglia è proprietaria da generazioni, è stata inserita, mia insaputa, arbitrariamente ed erroneamente tra i beni della Curia Vescovile di Vallo della Lucania, avendo attivato le procedure presso la sovrintendenza di Salerno per il restauro della statua e della cappella, mi è stato invece risposto di non avere alcun titolo in quanto non risultavo essere il proprietario. Prontamente ho contattato l'ufficio tecnico della Curia fornendo ai titoli di proprietà costituiti dalle denunce di successione dal 1936 ad oggi. Non ricevendo alcun riscontro alle mie pressanti sollecitazioni, continua il dottore Dello Schiavo, ho inviato lettera formale tramite lo studio legale Tata che a tutt'oggi è rimasta inascoltata. Ho pertanto avvertito con largo anticipo sia il parroco di San Mauro sia il responsabile del comitato Festa che perdurando tale inerzia sarei stato costretto con mio sommo dispiacere ad adottare misure gravi allo scopo di tutelare la mia legittima proprietà. Per cui le responsabilità vanno ricercate nell'enerzia e nel pressapochismo degli organi competenti, ribadisce il dottore Dello Schiavo, che spero possano affrontare e risolvere il problema prima di essere indotto ad adire a vie legali. Mi premeva infine stigmatizzare il comportamento di chi, senza conoscere i fatti, si è indignato e si è stracciato le vesti senza aver mai partecipato alle celebrazioni dell'8 settembre, offendendo la mia persona e lanciando proposte inverosimili e ridicole quali l'acquisto della proprietà.